Il mio approccio al fumetto è stato del tutto casuale, perché durante il liceo artistico mi è interessato unicamente alla pittura, però incontrai per caso un grandissimo disegnatore, Paolo Eleuteri Serpieri, che insegnava in quel liceo. Lo vedi disegnare con il pennello, il famoso pennello Windsor-Newton si può dire, e subito mi affrettai ad acquistarlo e a provare. Quindi iniziai da un approccio pittorico, sempre, perché era il disegno che più mi apparteneva. Poi segui un seminario, i primi anni Ottanta, di fumetto, e lì incontrai il direttore artistico dell'Eura, Ruggero Giovannini, che mi fece iniziare a provare su sceneggiatura. E da lì iniziai anche con difficoltà, con difficoltà rispetto al mestiere del disegnatore. Non avevo problemi nel disegno, ma non mi ero mai cimentato nel racconto, quindi nell'inquadratura, nella narrazione, anche cinematografica. E questa è stata una grande scuola. Io sono stato un appassionato proprio, vabbè, credo come un po' tutti quelli della mia generazione, insomma, siamo stati dei lettori di fumetti proprio accaniti, e mi sono reso conto appunto di voler fare questo lavoro, il momento in cui, dopo aver fatto, diciamo, tutti gli studi artistici possibili e immaginabili, e mi sono dovuto, diciamo, trovare di fronte alla necessità di decidere che cosa volevo fare da grande. E infatti ho aperto un'autoscuola. Aprendo l'autoscuola e quindi avviando la mia vita professionale verso una direzione completamente diversa, ho avuto proprio la sensazione di aver fatto proprio l'errore più grande della mia vita, quindi in quel caso ho trovato la forza di propormi, e contestualmente al lavoro che svolgevo in autoscuola, che era abbastanza impegnativo perché facevo 13 ore di guida al giorno solo di guida, facevo dei disegni e delle tavole che proponevo ai vari editori, e questa cosa, diciamo, è durata circa due anni, fino a quando, bussando alla porta dell'Ethernauta di Alvaro Zerbone, che è una persona straordinaria all'epoca, mi ha dato credito, mi ha commissionato un'illustrazione che sarebbe stata pubblicata da lì a qualche, non dico minuto, ma insomma qualche giorno, ho fatto questa illustrazione in un tempo brevissimo e ho cominciato così la mia attività, quindi ho preso forza, consapevolezza di mano a mano, grazie, devo dire appunto, per questo lo ricordo con tanto piacere, ad Alvaro Zerbone e ho iniziato a svolgere questa attività. Il mestiere del fumettista è nato dopo aver frequentato la scuola romana dei fumetti, quindi dopo essere stato allievo, aver conosciuto una serie di autori che leggevo sulle pagine delle riviste Bonelli e Sottopolino, in particolar modo Mastantuono e Sicomoro, Massimo Rotundo. Però poi in realtà il percorso è stato abbastanza, da una parte casuale, ma anche legato a tutto ciò che all'interno della scuola ho conosciuto, in particolar modo il lavoro di Stefano Caselli, col quale è nato anche un rapporto personale molto stretto e che mi ha portato ad esordire proprio per il mercato americano, nonostante ora non lavori più per quel mercato lì, ma abbia poi collaborato con case editrici francesi, attualmente come scrittore e disegnatore per la Sergio Bonelli, editore. Il mio esordio nel campo dei fumetti è avvenuto nel 2004-2005, più o meno, una volta uscita dalla scuola romana dei fumetti, dove ora insegno, mi è capitato di leggere, di trovare Monster Allergy in edicola e diventarne un'appassionata lettrice e una volta uscita da scuola ho avuto la fortuna di essere presa, di essere scelta come disegnatrice di Monster Allergy, quindi il mio esordio è stato assolutamente positivo. Ho lavorato poi anche per altre testate, tipo Geronimo Stilton, a Stilton, per un breve periodo per le Winx, per Angels Friends, per il mercato francese, ho lavorato per la Van D'Oest della Glennais e per la Soleil. Quindi diciamo che comunque ho sempre lavorato molto per testate diverse, per progetti diversi, che è una cosa che penso mi abbia arricchito molto e soprattutto mi ha fatto scoprire la mia passione per i progetti nuovi, cioè per nuove... per la mia passione per mettermi alla prova su progetti diversi, progetti nuovi. Quindi un po' la mia passione per il lavoro di ricerca. Da quando avevo tre anni ho iniziato a disegnare e non ho più smesso. La passione per il disegno è stata sicuramente aiutata dai miei familiari che hanno creduto nelle mie potenzialità e questo, devo dire, è stato sicuramente un vantaggio per il mio percorso creativo. Arrivare ad illustrare Albi Illustrati è stato quasi un caso. Avevo finito l'accademia, ero in un limbo, non sapevo cosa fare e casualmente girando per l'Eur trovai una mostra di illustrazione. Non sapevo cosa fosse, assolutamente non sapevo cosa fosse. Entrai, c'erano delle illustrazioni di mattotti, di innocenti e rimasi colpito. Rimasi colpito e ho detto, ma forse questo è il percorso che potrei intraprendere. Ecco, la via di mezzo tra l'arte fine a se stessa, il quadro compiuto, appeso al muro è un modo per divulgare la mia creatività. E così è stato. Ho frequentato vari corsi di illustrazione e grazie a dei concorsi trovati in rete o tramite passaparola, quindi tramite le selezioni, i premi, sono riuscito ad arrivare, a farmi conoscere e quindi ad essere contattato. In realtà io non ho mai presentato il mio lavoro a casa editrice, ma sono state loro, dopo aver visto i miei lavori durante i concorsi, a chiamarmi, a contattarmi per chiedermi delle commissioni. Una delle commissioni più importanti, adesso sono arrivato circa a 18-20 libri, ma una delle commissioni più importanti è stata quella di topi pittori, che mi chiamarono, mi contattarono per propormi le favole di Esopo. Ho iniziato questa professione nel finire degli anni Ottanta, quando ho lessi un piccolo annuncio della rivista Comic Art che cercava un letterista qui a Roma. e da lì il fatto di lavorare come letterista, come grafico, come impaginatore, come coloritore, in realtà è stata anche una sorta di gavetta per me per arrivare poi a disegnare per e propri fumetti come autore. Quello che è successo, diciamo, dagli anni 90 in poi con la Coniglio Editore, con la Blu, con l'Acme e con una serie appunto di editori siti in Roma. Io credo di essere sempre stato portato per il figurativo, poi frequentando delle scuole artistiche, scuole artistiche negli anni 70 si basavano su un po' il rifiuto dell'arte classica, quindi mi ricordo c'erano insegnanti che veramente da Picasso in giù non vedevano nessun altro, c'erano i professori di storia dell'arte che parlavano di arte antica, quindi il figurativo per un po' l'ho dimenticato, e quindi mi sono messo a dipingere, facevo dei quadri che ancora faccio, dei quadri sicuramente tra l'informale e l'astratto, e chiaramente continuavo a disegnare per conto mio, anche mentre facevo l'accademia. Avevo dei difetti, per cui non avendo disegnato moltissimo a scuola, mi sono messo a lavorare a casa da solo, con libri, oppure sperimentando un po', eccetera. Poi mi è capitato di disegnare delle vignette per il Satiricon di Forattini, e contemporaneamente trovare lavoro in uno studio professionale che produceva fumetti commerciali, ci sono stato poco veramente, ma veramente per un breve tempo, e comunque ancora non avevo deciso se andare verso la grafica, il fumetto, o verso la pittura, o il cinema. Quindi ho passato due o tre anni così, un po' di confusione, eccetera, finché non ho trovato degli amici con cui ho aperto uno studio, Saudelli, Cossu, De Angelis, e abbiamo cominciato a lavorare prima insieme, poi da soli, per riviste come L'Intrepido, Lancio Storie, eccetera, e ho cominciato anche a conoscere alcuni autori fondamentali del mondo della storia del fumetto, come Ugo Pratt, Breccia, Battaglia, che consideravo dei grandi artisti, mi sono appassionato, ho potuto realizzare anche l'aspetto economico, che non è marginale, nel senso che cominciavo a guadagnare qualche cosa, quindi la mia decisione è stata un po' forzata, ma alla fine quasi naturale. Ho sempre amato il disegno, ho fatto il liceo artistico, ma sono approdato al fumetto in maniera del tutto casuale. Ho risposto a un annuncio sul giornale, un disegnatore di fumetti cercava un matifista, quindi qualcuno che realizzasse i disegni a matita di una storia a fumetti, e io ho avuto l'ardire di rispondere a quel, di propormi rispondere a quell'annuncio.